Il business dell'ultimo saluto al caro estinto è una vera e propria arte che sembra non conoscere crisi. A dimostrarlo Cetane Expo, la fiera della produzione funeraria e cimiteriale italiana ed internazionale, in scena alla fiera di Bologna è arrivata alla sua settima edizione. Abbiamo riempito tre padiglioni, il padiglione 21, il padiglione 22 e il padiglione 16, un totale di 23 mila metri quadrati di aria espositiva, 200 circa espositori italiani e stranieri, di stranieri ce ne saranno un 20%, abbiamo come potete vedere già nella prima mattinata un flusso veramente soddisfacente di pubblico, ci attendiamo sicuramente di arrivare e superare almeno per i visitatori il numero di due anni fa, che eravamo arrivati intorno ai 14-15 mila. Produzioni per tutte le tasche e da ogni parte del mondo. Arrivano dappertutto, dalla Sud America, dal Messico, dalla Russia, dalla Spagna, dalla Thailandia, dalla Cina, Giappone, Hong Kong, arrivano dappertutto, ormai Cetane Expo è a livello internazionale la prima fiera al mondo. E la fantasia non ha limiti. Questo cofano con un telesoccorso, un sistema, un software che permette in caso di risveglio della morte apparente, ha la possibilità di comporre un numero da tastiera, vocalmente, e ha un software di localizzazione satellitare che permette la intracciabilità della cassa qualora venga trafugata. Il mese scorso mi è presentato una cassa in oro, per cui il rischio oggettivo era molto alto. Grazie. 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 Grazie.